Il presidente ad interim ucraino ha ordinato la ripresa delle operazioni definite antiterroriste nell'est del paese, dopo che alcune persone, tra cui un politico del suo partito, sono state trovate morte e con segni di torture. L'episodio è avvenuto a Slavyansk, città nelle mani dei miliziani filorussi. Oleksandr Turchinov ha dichiarato che è stata messa una croce sopra gli accordi di Ginevra del 17 aprile. Questi crimini vengono commessi col pieno sostegno o con l'avallo della Federazione Russa, ha affermato Turchinov, che in giornata ha ricevuto il vicepresidente statunitense Joe Biden.